E' un grande calciatore. Dreyer si coordina per una rovesciata. Go! Ora che non giochi più a calcio, cosa fai di bello? Siete su CSI Sports. Con un rigore all'ultimo secondo, oggi la... Questa è la società emittente della sua carta di credito. Se George Dreyer non è più a questo numero, premere 1. Se George Dreyer è deceduto, premere 2. Pensi mai a come sarebbe stato se non avessi incasinato tutto? Ci penso sempre, George. Sei stata la cosa più entusiasmante che mi sia capitata. Sei triste che la mamma si sposa? Sì, però Matt mi sembra uno in gamba. Ho deciso che non lo chiamerò papà. Ciao, io sono Denise. Ci siamo già incontrati. Direi di no, non mi pare. È una telecronista sportiva. Lo era. La ESPN cerca di espandere la sua copertura al calcio. Papà, non mandarti, Annie, ti prego. Non posso. Ho un bambino che ha bisogno che cominci a fargli da padre. O sono in anticipo, sono in ritardo. Non arrivo mai al momento giusto. Quella è una coppia che sa parlare davvero. Io non credo che lui sia lo sposo. I'm gonna steal your heart away I'm gonna steal your heart Steal your heart away I'm gonna steal your heart 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 I'm gonna steal your heart